Enzo Infantino, la notizia dello sgombero di San Ferdinando, della Baraccopoli, è una buona o una cattiva notizia per voi? Intanto lo sgombero spero non sia l'ennesimo atteggiamento propagandistico che verrà utilizzato dal Ministro Salvini. Lì c'è un dramma vero, un migliaio di persone, la maggior parte regolare, che sono venuti nella Piana di Gioietaura a lavorare, un lavoro sfruttato, voglio ricordarlo, molti di questi mercoledì non sanno dove andare, molti di questi probabilmente troveranno una sistemazione di fortuna. Il nostro è un ragionamento diverso rispetto a questa situazione, certo è che quella condizione è una condizione disumana in cui hanno vissuto, vivono quelle persone. Noi dobbiamo lavorare e stiamo lavorando per cercare una soluzione abitativa, una soluzione dignitosa a queste persone che vengono da fuori a lavorare, spesso sfruttate nei campi agricoli della Piana di Gioietaura. Si era parlato addirittura di utilizzare le case della Piana, è un progetto che sta andando avanti? Sì, con il comitato per il riutilizzo delle case sfitte della Piana di Gioietaura abbiamo lanciato questa proposta. Noi sappiamo che nella Piana di Gioietaura ci sono circa 35 mila avanti sfitti, di cui 15 mila soltanto nella fascia vicina alla Baraccopoli. Stiamo facendo un lavoro importante con un padre Alex Zonotelli che è stato un ispiratore del comitato, con il professore Alberto Ziparo, con Mimo Lucano, stiamo provando in qualche modo anche a rompere questo muro di diffidenza che c'è tra i cittadini nella Piana di Gioietaura. È necessario lavorare su questo impegno, su questo obiettivo e cioè dare un'obbligazione dignitosa non soltanto ai lavoratori che in questo momento vivono in maniera disumana nella Baraccopoli e voglio ricordare che la Tendopoli non può essere una soluzione definitiva ed emergenziale, anche lì bisogna superare queste idee emergenziali della Tendopoli che è stata allestita vicino alla Baraccopoli. L'obiettivo deve essere questo, l'integrazione e l'accoglienza diffusa di questi lavoratori, non soltanto per questi lavoratori ma anche per la lavora delle colabresi. Per questa ragione, come in precedenza l'avevamo ricordato, c'è la Regione Calabria su questo obiettivo che potrebbe finanziare questo obiettivo di dare un'obbligazione dignitosa a questi lavoratori. Noi ci stiamo impegnando, noi ci auguriamo che a più presto si possa riuscire a risolvere definitivamente questo problema.